Ho avuto l'opportunità di collaborare con il COSV recentemente, in Libano in particolare, in un progetto estremamente innovativo e che secondo me rappresenta bene l'approccio che il COSV propone rispetto all'attività di cooperazione internazionale, cioè mette insieme operatori che non gravitano solo ed esclusivamente nel mondo del terzo settore, ma anche e soprattutto quelle abilità che operano nel settore for profit, ma anche e soprattutto sulla parte più innovativa dal punto di vista finanziario. Era un progetto, quello di partenza, direi anche ambizioso, cioè quello di cominciare a integrare i profili degli investimenti e di impatto sociale con le attività inclusive di imprenditoria sociale. La parte che più mi ha affascinato di questo lavoro è stata quella di partire senza alcuna coordinata e senza alcun riferimento o alcun caso da poter replicare. Ecco, avventurarsi in questo settore con spirito innovativo e con la volontà di scoprire soluzioni parecchio distanti dagli standard operativi forse è stato l'elemento che più mi ha affascinato nell'approccio del COSV. Poi le difficoltà sono innumerevoli, le strade sono molto lunghe, però un approccio di questo tipo secondo me denota il vero ruolo sociale che deve assumere un ente che svolge attività di cooperazione internazionale in un momento di cambiamento come quello che stiamo vivendo. Grazie. Grazie.